62 gli anni che avrebbe compiuto da pochi giorni, 26 gli anni che aveva 36 anni fa. I numeri a Napoli non sono mai casuali ed oggi più che mai possono aiutare a ricordare il sacrificio di Giancarlo Siani, primo e unico giornalista ucciso dalla Camorra per aver raccontato nei suoi articoli puntuali e schematici, completi di nomi e cognomi, le ferosi dinamiche dei clan. Nel periodo di massima violenza della guerra tra la nuova Camorra organizzata di Cutolo e il clan Nuvoletta, alleato di Cosa Nostra, una lunga scia di sangue che non si è mai dissolta, come dimostrano ancora oggi i recenti episodi tra Napoli e Torre Annunziata, città quest'ultima che due anni fa gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Il Mattino, quotidiano dove lavorava senza contratto, gli ha dedicato un libro oggi in edicola. «Tramandare alle nuove generazioni la passione etica del giornalista è un dovere di tutti noi», ha detto il ministro dell'Interno Lamorgese, e nel pomeriggio alla Camera, in un convegno, verrà presentato il libro che raccoglie articoli e inchieste di Giancarlo Siani sul lavoro al Sud e sulle lotte sindacali, temi per cui si era a lungo impegnato.